Oroscopo settimanale dal primo al 7 marzo 2021 Ariete Il nuovo mese partirà abbastanza bene perché in questa settimana si potrà dare grande spazio alle emozioni. Se avete un partner, proprio in questi giorni potrete chiarire alcune questioni del rapporto che non andavano. Potrete quindi recuperare un ottimo equilibrio di coppia. Perché single non sono escluse novità, magari un interessante nuovo incontro. Lavoro Durante le giornate centrali della settimana potrebbero nascere dei problemi con un collega sul posto di lavoro. Occhi aperti a chi l'avete ascolto perché non sempre tutti si possono rivelare anche degli ottimi amici o consiglieri. Toro Amore Probabilmente lo stato d'animo di questi giorni non sarà dei migliori. Per le relazioni non sempre le cose andranno come si vorrebbe. Chi è impegnato in una storia dovrà fare molta attenzione al weekend dove potrebbero nascere grandi problemi e disagi con il partner. I single invece vorrebbero approcciarsi a qualcuno per vivere nuove emozioni e chissà che non accada a questo punto. Lavoro Il fine settimana però potrebbe cambiare le carte in regola e portare squilibri e disagi pesanti nei rapporti affettivi. Lavoro Dovrete approfittare della prima parte di questa settimana per darvi da fare sul lavoro. Durante il weekend le cose non andranno per tutti bene come si vorrebbe. Attenzione quindi a come deciderete di muovervi a livello professionale. Cancro Amore L'umore non sarà al massimo in questa prima settimana del nuovo mese e potrebbero risentirne anche i rapporti. Per quanto riguarda certe relazioni magari pure appena iniziate. Dovrete quindi riflettere su determinate situazioni per poter poi trarne delle conclusioni. In questi giorni probabilmente non vi sentirete troppo leggeri e non sarete al top nemmeno con voi stessi. Lavoro Molto bene la settimana per gli impegni e i progetti professionali. Il weekend potrebbe essere un po' più movimentato. Dovrete spiegarvi molto bene sul posto di lavoro per evitare problemi e guai. Leone Amore Settimana veramente favorevole per l'amore. Per chi ha già una persona importante al proprio fianco, questi saranno giorni tranquilli e sereni per i sentimenti. Grandi novità in arrivo per chi invece ha il cuore libero ed è interessato a vivere una nuova relazione. Questo sarà il momento giusto per dei nuovi incontri. Sempre che lo vogliate davvero. Lavoro Dovreste credere un po' di più in voi stessi e nelle vostre possibilità. Occhio a chi deve misurarsi con dei collaboratori perché non tutte le vostre idee saranno condivise e questo potrebbe comportare dei problemi. Vergine Amore Questa settimana di marzo aprirà il nuovo mese dell'anno con uno stato d'animo non sempre ben definito. Dovrete fare un po' di attenzione ad atteggiamenti e comportamenti. Il vostro partner potrebbe non apprezzare alcune mosse che deciderete di fare, magari una particolare azione che potreste controllare in maniera diversa. Non sarà un momento di grandi vantaggi per chi ha il cuore libero da impegni amorosi. Meglio attendere un periodo migliore per i nuovi sentimenti. Lavoro Potreste essere un po' accorto di soddisfazioni e gratificazioni. Dovreste impegnarvi a dovere e non smettere di credere in quelli che sono i vostri obiettivi professionali, anche in vista del futuro. Bilancia Amore In queste giornate probabilmente dovreste prendervi un po' di tempo per voi e per i vostri rapporti. Se lo stato d'animo non sarà troppo alto, chi ha un partner al proprio fianco potrà contare sul suo sostegno. Questo sarà un grande aiuto pure per ritrovare ottimismo ed energie. Non sono comunque escluse delle nuove conoscenze per chi è single. Lavoro Attenzione a non correre troppo con progetti e mosse di lavoro. La fretta non vi aiuterà e potrebbe persino portare dei disagi. Sarà quindi importante riflettere molto bene sulle cose da fare e le mosse da attuare. Scorpione Amore Queste giornate potrebbero comportare piccoli problemi per le coppie. Potreste ritrovarvi a dover risolvere dei problemi all'interno della relazione d'amore con il partner. I single faranno nuovi incontri, ma difficilmente saranno gli incontri della vita, anzi. Sarà meglio tenere gli occhi ben aperti dalle persone che deciderete di avere al vostro fianco. Lavoro Buone nuove sul posto di lavoro. Finalmente i vostri impegni riceveranno le giuste gratificazioni, il giusto compenso. Qualcuno potrebbe arrivare a ricevere una notizia che aspettava già da tanto tempo. Sagittario Amore Probabilmente in questa settimana non vi darete troppo da fare con i sentimenti. Avrete altri pensieri per la testa e sarete concentrati su fronti diversi. Difficile quindi prevedere dei cambiamenti o dei passi in avanti in storie stabili o in nuove conoscenze, anche importanti. Lavoro Dubi, pensieri e preoccupazioni non vi renderanno troppo sereni sul posto di lavoro. Attenzione a non perdere del tutto l'ottimismo e la voglia di fare per raggiungere i vostri sogni nel cassetto. Capricorno Amore Marzo sarebbe potuto iniziare decisamente meglio di così. Se siete impegnati in una relazione sentimentale, non sarà affatto un bel periodo e potrebbero nascere incomprensioni e litigi con la propria dolce metà. Potreste quindi avere l'umore basso e rivelarvi pure nostalgici. Chi ha il cuore libero non farà gli incontri della vita, almeno la maggior parte. Lavoro Tutto un po' fermo con i progetti per queste giornate del nuovo mese. Dovrete fare attenzione a non abbattervi troppo. Difficilmente ci saranno grandi novità in questa settimana. Acquario Amore Settimana abbastanza altalenante per i sentimenti e le emozioni di coppia. Ci saranno quindi momenti perfetti e piacevoli al fianco del proprio partner, alternati a momenti di quasi crisi nera. La stessa cosa varrà per chi non ha impegni di tipo amoroso, ma si approccia a delle nuove conoscenze. Lavoro Le stelle potrebbero essere particolarmente favorevoli in questi giorni di inizio marzo. Potrete approfittarne per dare il massimo e magari ricevere anche un bel risultato sul posto di lavoro. Pesci Amore Per le relazioni amorose non sarà una settimana troppo incoraggiante. Dovrete fare particolare attenzione alle emozioni eppure ai rapporti. Per i single in cerca di amore non saranno giorni molto fortunati e bisognerà attendere sicuramente un momento migliore. Non per questo bisognerà smettere di credere in un sentimento, anche futuro. Potrete attendere tempi migliori per dare il meglio del vostro cuore con qualcuno. Lavoro In questa prima settimana del mese di marzo potrebbero arrivare delle belle soddisfazioni, probabilmente anche un po' inaspettate. Non ci saranno grandi cambiamenti, ma forse qualche entrata in più che vi farà sentire senz'altro più appagati. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e chiedi. Clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti.